Oggi andiamo alla scoperta della Maremma, a partire da Grosseto, il capoluogo più a sud della Toscana. Un tempo la piana di Grosseto era un'estesa laguna dominata da due importanti città di origine etrusche, Roselle e Vetulonia. La prima volta che compare il nome Grosseto è però in una pergamena dell'803 d.C., che lo cita come il loco Grossito. Nel Medioevo questo capoluogo fu governato dagli aldobrandeschi, che hanno lasciato torri, castelli, rocche e fortificazioni. E dai medici, costruttori di strutture suggestive come le bellissime mura di Grosseto, uno dei rari esempi di architettura militare tardorinascimentale. Da Grosseto ci spostiamo nel profondo dell'entroterra Maremman per andare a scoprire i simboli di questa terra affascinante. I butteri, i cowboy della Toscana e l'intramontabile tortello Maremmano, il re della tavola grossetana. Da secoli a presidio della tavola Maremmana il tortello starebbe a significare torta di piccole dimensioni, ma indicherebbe anche, secondo alcune interpretazioni, la sfoglia della pasta che viene più volte ritorta su se stessa. Questa eccellenza ha origini povere ed è tradizionalmente costituita da ingredienti nutrienti e facilmente reperibili nelle campagne. Da dove viene il nome tortello? Da secoli a presidio della tavola Maremmana il termine tortello starebbe a significare torta di piccole dimensioni. I veri tortelli Maremmani sono caratterizzati da un importante marciapiede, ossia il borde esterno, e poi da un ripieno saporito ed abbondante. Ma da cosa è fatto un vero tortello Maremmano? È composto da un sottile strato di pasta composta da uova e farina di semola. E dal ripieno di spinaci, bietole o altre erbe di campo come ortica o borragine, che comunque devono essere sempre sottoposte a cottura prima di andare a costituire il ripieno. Il tutto insieme a ricotta di pecora o mista pecora, un tocco di noce moscata e formaggio, parmigiano reggiano, grana padano o pecorino. Il tortello Maremmano, infine, ha misure tutte sue. Chiuso su tre lati, pesa da 50 a 70 grammi in misura dai 7 ai 9 centimetri. E come si sviluppa invece una preparazione ottimale? Una volta preparati, i tortelli devono essere cotti in acqua bollente per pochissimi minuti, fino a quando non si nota il rigonfiamento nella parte contenente il ripieno. Dopo essere stati scolati, possono essere serviti con carne Maremmana o due cinghiale, oppure conditi semplicemente con burro e salvia e può essere aggiunto anche del pecorino grattugiato. Il tortello è il simbolo della Maremma e del suo spirito indomabile, proprio come quello di un vero buttero. Dall'involcro spigoloso ma dal cuore morbido, questo piatto è una combinazione vincente di semplicità e sapori autentici e forti. È una ricetta il cui segreto si scela tutto nell'equilibrio tra gli ingredienti e che esalta le ottime materie prime del territorio. Il tortello maremmano è l'esempio perfetto di una bontà che viene dal cuore prima ancora che dalle mani di una popolazione generosa e sincera. In ogni boccone di tortello permettiamoci un po' di romanticismo. Troviamo i sapori, gli odori, ma anche il carattere intrinseco della Maremma. Una terra in cui il cuore morbido e accattivante si scopre solo dopo aver avuto la pazienza di lasciarsi stupire da ciò che si trova sotto la superficie.